Con l'allarme Verisure hai l'innovativa tecnologia Shock Sensor che ti assicura una barriera preventiva totale contro ogni intrusione. I nostri sensori vengono posizionati su porte e finestre e rilevano ogni tentativo di scasso e apertura forzata, così come le vibrazioni o la rottura del vetro. In questo modo creiamo uno scudo di protezione totale per tutti i possibili ingressi della tua casa, rilevando qualsiasi tentativo di intrusione che ci permette di agire immediatamente e informare le forze dell'ordine.